Oggi vorrei provare a rispondere a una domanda molto particolare, che coinvolge sia la storia militare sia quella della medicina. Qual è il primo caso documentato di guerra batteriologica? Solitamente quando si parla della guerra batteriologica e delle sue origini si finisce sempre per citare dei casi della storia medievale, che vedono delle realtà assedianti catapultare per mezzo di macchine d'assedio dei corpi infetti di individui morti di peste all'interno delle mura di una città assediata, con l'intento di contagiarne i difensori. In realtà però forse i primi casi di guerra batteriologica sono da retrodatare addirittura all'età del bronzo. Prima però di entrare nel vivo della discussione, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e di condividere quei filmati che trovate più interessanti sui vostri canali social. E andiamo ora ad esplorare tutto il contesto che vide forse la nascita della guerra batteriologica, cominciando con i suoi presupposti. Una grande epidemia che colpì il vicino Oriente Antico, precisamente l'area della Siria e del Libano, intorno alla fine del XIV secolo a.C. Negli archivi egiziani di El Amarna, che conservano la corrispondenza tra i Faraoni e i Grandi dei Reami del vicino Oriente Antico nella seconda metà del XIV secolo a.C., ritroviamo diversi riferimenti ad una pestilenza che avrebbe colpito il Levante, con la città di Sunnuru quale epicentro. In una delle lettere che trattano del Morbo, la numero 96, leggiamo che la sua diffusione viene imputata agli asini, e che quindi per cercare di arginare il contagio viene proibito l'uso di bestie da Soma all'interno delle carovane. La misura precauzionale però evidentemente è tardiva, infatti in altre lettere leggiamo del diffondersi della pestilenza presso Meghiddo, presso Biblos, presso il regno di Amurru e forse addirittura presso Babilonia. Nella lettera numero 35 poi noi leggiamo che il re di Alashia, ovvero Cipro, si scusa profondamente con il Faraone per l'ammontare misero del suo tributo in rame, adducendo come motivazione la mano di Nergal, che si sarebbe abbattuta sul suo paese e ne avrebbe falcidiato la popolazione. Privandolo così della forza lavoro necessaria non si capisce esattamente a estrarre o raffinare il metallo. Ora Nergal è una divinità mesopotamica caratteristica delle pestilenze, e il fatto che il re Cipriota usi proprio una divinità mesopotamica, quale allegoria di quello che probabilmente è un morbo che ha colpito il suo paese, rende evidente che per i Ciprioti la malattia doveva giungere da Est. Si tratta quindi probabilmente lo stesso morbo che attraverso i centri cananaici della costa, lungo le rotte commerciali marittime, aveva raggiunto il regno insulare di Cipro, trasportato probabilmente dai piccoli roditori che solitamente infestano le stive delle navi. Secondo il biologo molecolare Siro Trevisanato probabilmente il decorso della malattia, la sua sintomatologia e le sue modalità di diffusione, che si possono in parte desumere dalle fonti storiche, la identificerebbero nella tularemia, un morbo caratteristico dei piccoli roditori ma che può essere trasmesso anche alle bestie da Soma, alle greggi e all'uomo, con i parassiti ovvero le zecche, le pulci e i tapani che fanno da principale veicolo di diffusione. Quando nel 1325 a.C. gli Ittiti lanciano un'offensiva contro la regione siriana di Amca, strappandola all'influenza egiziana, il flusso di schiavi e di armenti, portato in Anatolia come bottino, funge da ulteriore canale di diffusione del morbo, come si può ricavare dalla tavoletta 4.475 dell'archivio di Ugarit, che accenna alla morte di alcuni individui Ittiti in Siria, presi dalla mano di un dio. Il morbo avrebbe tormentato l'impero Ittita per ben vent'anni, portando addirittura alla morte di re Sciuppi Luliuma I e del suo erede Arnuganda, come si può ricavare dall'iscrizione 14.8 di Khattuças. Nel 1321 a.C. sarebbe assurdo al trono dell'impero Ittita Murshili II, il quale in un testo noto come La preghiera del morbo avrebbe portato le proprie rimostranze e le proprie lamentazioni direttamente al dio delle tempeste Tarhuna, la principale divinità dell'impero Ittita, ritenuto responsabile della pestilenza. Un anno dopo dell'ascesa al trono di Murshili II la Lega di Arzawa, una realtà federale costituita da diversi stati del popolo dei Luvi che si trovava in Anatolia occidentale, si ribella contro l'impero Ittita, probabilmente sfruttando lo stato di prostrazione causato dal morbo. A rispetto di tutte le difficoltà però gli Ittiti non solo riescono a respingere l'offensiva di Arzawa, ma addirittura ad organizzare una controffensiva che in meno di due anni riesce a ricondurre all'obbedienza ai ribelli. Negli archivi di Murshili II, che tratta della campagna portata avanti contro Arzawa, si legge di un evento molto particolare, riportato evidentemente in chiave semi-mitica, ma che potrebbe nascondere tutta una serie di dinamiche molto interessanti. Murshili II scrive che il dio delle tempeste Tarhunna, quello ritenuto responsabile della pestilenza, si manifesta e scaglia una folgore. L'esercito Ittita che si sta recando presso le terre di Arzawa è testimone di questa folgore che attraversa il territorio e si abbatte sulla capitale Luvia di Apasas, andando a colpire direttamente Ucazitis, il re dei Luvi, che così cade malato. È abbastanza evidente che tutto questo racconto è un'allegoria relativa al passaggio del Morbo dagli Ittiti ai Luvi, una dinamica di contagio abbastanza semplice. Eppure vi sono alcuni riferimenti che potrebbero far sospettare che il contagio sia stato portato avanti in maniera intenzionale proprio dall'esercito Ittita. Albrecht Goetze, nell'antologia Ancient Near East Texts Relating the Old Testament, riporta un'interessante ritualità Ittita che veniva eseguita qualora all'interno di un accampamento militare si manifestasse una pestilenza. Secondo il rito ciascuno degli ufficiali dell'accampamento doveva procurare un montone che veniva decorato con delle ghirlande da un sacerdote. L'Egregio di Montoni così costituito veniva poi consacrato alla divinità ritenuta responsabile dell'epidemia. Ogni montone inoltre veniva caricato con una forma di pane, una giara ricolma di birra e una giara ricolma di latte. Tutti gli ufficiali poi insieme recitavano una formula che decantava le lodi dei montoni, sottolineando quanto fossero grassi e appetitosi e auspicando che il dio responsabile del morbo sviluppasse un disgusto per la carne umana e al contrario venisse attratto da quella dei montoni. Infine a guida del gregge veniva posta una donna con un abito sontuoso, a sua volta carica di una cesta con all'interno tre forme di pane e una giara ricolma di birra. La donna e i montoni venivano poi scacciati dall'esercito al di fuori dell'accampamento e sospinti verso le terre del nemico, mentre tutti recitavano la seguente formula. Guardate, qualunque fosse il morbo che aveva colpito gli uomini, i buoi, le pecore, i cavalli, i muli e gli asini di questo accampamento, questa donna e questi montoni lo stanno portando via, e chiunque dovesse accoglierli presso di sé attirerà su di sé il morbo. Ora è evidente dalla formula che tutto il rito auspica un vero e proprio trasferimento della malattia dall'esercito ittita al nemico, ma forse l'intera ritualità è frutto parimenti di credenze magico-religiose e di alcune conoscenze intuitive in campo medico. Questo perché noi sappiamo che almeno dal XVIII secolo avanti Cristo il mondo vicino orientale aveva in parte compreso le dinamiche relative al contagio. Infatti nella tavoletta 10129 dell'Archivio di Mari noi leggiamo che il re Zimri Lim ingiunge alla sua sposa di far sì che nessuno bevesse dallo stesso bicchiere, si sedesse sullo stesso scranno, o si sdraiasse sullo stesso giaciglio, di una donna che frequentava la corte e che nella tavoletta viene descritta affetta da una condizione dermatologica, una malattia che Zimri Lim descrive sempre contagiosa, o meglio utilizzando un termine accadico Mushtachiz, che significa letteralmente che cattura sempre. Effettivamente nel testo Zimri Lim esprime la preoccupazione che questa donna potesse trasmettere la sua malattia alle altre donne del palazzo. A questo punto, in quest'ottica, il fatto che nel rito ittita i montoni venissero caricati con giare ricolme di latte e di birra e ceste di pani, può essere interpretato in due modi diversi. Da una parte semplicemente il fatto di rendere l'intero quadro più appetibile al nemico, dall'altra effettivamente aumentare in maniera esponenziale i canali di un possibile contagio. Infatti i parassiti sui montoni avrebbero potuto contaminare le derrate alimentari e renderle parimenti un veicolo per diffondere la tularemia. Nello stesso modo andrebbe interpretata la donna con un abito sontuoso, che dà a tutto il quadro un aspetto tanto accattivante quanto letale. Termina qui questa disamina relativa a quella che forse è la prima attestazione di guerra batteriologica del mondo antico, e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie!